La federazione di pugilato britannica ha messo fine ai sogni olimpici dell'ex modella inglese Sarah Bluden, 25 anni. La bellissima atleta dovrà accantonare il sogno di partecipare alle Olimpiadi, dove la box femminile potrebbe entrare fin dalla prossima edizione, in programma proprio a Londra nel 2012. L'avvenente parrucchiera di pool non potrà continuare l'attività sul ring, intrapresa con buoni risultati da due anni, perché la federbox britannica, secondo quanto ha scritto il Mirror insieme con il Telegraph, le ha imposto il divieto di praticare questo sport in quanto le regole internazionali vigenti ne proibiscono la pratica per chi, come la Bluden, si è fatta impiantare nei seni delle protesi al silicone. I colpi presi potrebbero danneggiarle e sarebbe troppo pericoloso. La ragazza, che nel 2003 si era sottoposta ad un'operazione di chirurgia plastica per aumentare di due tagli i propri seni, garantisce che questa storia non finirà qui e minaccia di portare il suo caso davanti alla magistratura ordinaria e sportiva, il Tribunale Internazionale dello Sport di Rosanna compreso. Per tanti anni nel pugilato le donne sono state discriminate, al punto che non c'era permesso praticare questo sport. Ora c'è questo nuovo ostacolo, ma andrò avanti perché così altre donne, che come me hanno il seno al silicone, non avranno lo stesso problema e potranno fare le pugilatrici.